3 denunce a Porto Sant'Elpidio, manager Truffaldino in Ganna, un ristoratore vittima di usura ed estorsione. Presentato il progetto di nuove scogliere a Ponte Sasso di Fano, un intervento di oltre 4 milioni di euro. Pronto a Sforzacosta di Macerata il secondo lotto del plesso scolastico 011 grazie alla fondazione Andrea Bocelli. Piazza Leopardi di Re Canati sold out ieri sera per lo straordinario concerto di Edoardo Bennato, rocker senza età. Buonasera e ben trovati amici telespettatori con la seconda edizione quotidiana di All News, l'informazione targata TVRS. E apriamo con la cronaca scontro frontale tra auto a Osimo. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 11.45 in Via Colle San Biagio. Due autovetture si sono scontrate frontalmente sul posto ai vigili del fuoco e il personale del 118, la squadra di Osimo, ha messo in sicurezza le auto incidentate e l'intera area dell'incidente. Due le persone infortunate che sono state trasportate poi all'ospedale di Osimo ed è intervenuta anche la polizia locale. Andiamo al primo servizio serale, lo avete sentito nei titoli, usura, estorsione e appropriazione indebita. Tre cittadini nei guai, ci dice tutto. Andrea Verdolini. Il suo manager gli ha fatto credere, dopo avergli rubato parte degli incassi, di essere insolvente con i fornitori. A quel punto ha chiamato due suoi complici pronti a fargli credito con tassi usurai. Ma la vittima, un ristoratore di Porto Sant'Elpidio, si è rivolta ai carabinieri. Da qui la denuncia in concorso tra loro di tre persone per usura, estorsione e appropriazione indebita. La vittima, a fronte di un prestito di 40.000 euro consegnato in più tranche, avrebbe dovuto restituire la somma di 80.000 euro, il tutto, in appena un anno. Ma il loro piano criminoso è stato smascherato dai militari. I denunciati sono tre italiani, un 53enne ed un 59enne di origini campane e un 59enne piemontese, tutti abitanti a Porto Sant'Elpidio. È stato lo stesso manager a metterlo in contatto con gli altri componenti del sodalizio criminale, disposti a fargli credito con tassi di interesse e poi risultati usurai, facendo scattare poi il blitz dei carabinieri. Esce dal garage di casa in discesa e invece di frenare accelera e finisce contro la porta di un garage del palazzo accanto. Il fatto è accaduto questa mattina attorno alle 9.45 in via Bocconi ad Ancona ed ha visto come protagonista a suo malgrado una donna di 85 anni. Al momento dell'incidente si trovava alla guida della vettura al cui interno c'era anche una bambina di 10 anni. Forse a causa di un momento di distrazione la donna in discesa e in uscita dal garage invece di frenare ha accelerato ed è andata dritta contro il garage del palazzo attiguo distruggendo la vettura a una Fiat Panda di colore grigio. Sul posto è intervenuto un mezzo della croce gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto della donna al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti, mentre la bambina è stata portata da una seconda persona al pronto soccorso del Salesi. E le scogliere a Ponte Sasso di Fano è presentato il progetto di manutenzione straordinaria per un intervento di oltre 4 milioni di euro. Sentiamo l'assessore Aguzzi. Io ero stato stimolato dagli operatori proprio balneari di quel territorio ad un incontro mi pare a inizio di questo anno, febbraio, dove si lamentavano fortemente di un'ulteriore mareggiata eccetera. Partecipiamo a quell'incontro insieme ai dirigenti della regione Marche, prendemmo un po' atto della cosa che io però già conoscevo, ma non c'era allora alcun finanziamento, non c'era nulla di previsto su quel tratto di territorio, né alla regione Marche era mai giunto un progetto che richiedesse quel tipo di intervento. Ne prendemmo atto e prendemmo un impegno. Il caso vuole, per questo dico anche inaspettatamente, che poche settimane dopo, dal governo, dal ministero, che ringrazio, arriva un finanziamento alla regione Marche molto cospicuo di 38 milioni di euro mirato al dissesto idrogeologico. Io prendo atto di questo finanziamento, c'erano tante attività ovviamente da portare avanti in tutta la regione Marche, in questo settore. Io mi permissi di chiedere al ministero se una parte di quei fonti potessero anche essere rivolti alla difesa della costa. Il ministero ci disse che doveva sì essere però una cifra molto bassa rispetto alla complessiva diciamo cifra erogata. Deliberammo in giunta regionale, proprio una delibera che inviamo al ministero, che avremmo impegnato non più del 10% di quella cifra per la difesa della costa. Il ministero l'accettò e noi inserimmo proprio la progettualità, diciamo così, di Ponte Sasso per inserire su 3 milioni e 8 quel tipo di intervento. Io personalmente in quel momento chiesi al comune di Fano, ai tecnici del comune di Fano, di redigere velocemente un progetto di massimo che riguardasse uno stralcio di 4 milioni, perché non ne avevamo e non potevamo inviare niente al ministero. Nel giro di poche settimane questo stralcio arrivò ed era di 4 milioni e 2, lo inviamo al ministero e il ministero ci disse che non andava bene perché noi avevamo indicato massimo il 10%, quindi 3 milioni e 8, 4 milioni e 2 ne mancava un pezzo. Richiamai il comune di Fano direttamente e gli chiesi di fare una lettera alla regione Marche di impegno a copartecipare per la cifra mancante che era 300 e qualcosa che mancavano. Questa lettera arrivò, la girammo al ministero insieme alla nostra delibera e insieme al progetto di massima, il che è stato inserito nella piattaforma Rendis ed è insieme ad altri 8 interventi approvati, i fondi arriveranno a inizio del prossimo anno. Per essere onesti io deduco che per il 2025, stagione balneare, non è possibile attivare questo tipo di intervento, anche perché è un intervento molto complesso, molto difficile. Io voglio pensare che i lavori potrebbero realisticamente partire nella fase autunnale del 2025 ed essere conclusi per l'estate dell'anno successivo, quella del 2026. Uno scooter con in sella una coppia è stato investito ieri sera poco dopo le 23 ad Ancona in via del Castellano da un cinghiale. Un uomo e una donna sono rimasti feriti e sono stati portati in codice rosso all'ospedale di Torrette. L'ungulato è sbucato all'improvviso travolgendo il mezzo a due ruote. Un impatto violento che ha fatto perdere il controllo al conducente e ha fatto finire a terra i due occupanti. Sul posto è arrivata l'automedica del 118, partita da Loreto. Intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato i feriti in ospedale per le cure del caso. Ed è pronto il secondo lotto del plesso scolastico di Sforzacosta di Macerata. Sentiamo Andrea Verdolini. Vedere realizzate opere pubbliche in tempi ragionevolmente brevi, tra l'altro riqualificando profondamente uno spazio dedicato alla scuola, è un fatto sempre meno usuale. La sinergia invece tra la struttura commissariale post-Sisma e il Comune di Macerata e soprattutto l'Andrea Bocelli Foundation ha fatto in modo che il pomeriggio del 23 settembre sarà inaugurato il lotto B del Lab Educativo 011 di Sforzacosta. Un intervento che ha visto la ristrutturazione della scuola primaria natale e del giardino circostante, il tutto in 150 giorni, completando il secondo step di un ampio progetto iniziato lo scorso anno. Nell'immagine infatti vediamo il polo d'infanzia, il cui taglio del nastro venne effettuato lo scorso 22 novembre. Un'opera di riqualificazione e rigenerazione urbana che darà vita alla rinnovata scuola primaria e ad una serie di laboratori interni ed esterni accessibili a bambini e famiglie, oltre l'orario scolastico, compresi fine settimana e periodo estivo, dando davvero nuova linfa ad una frazione densamente popolata. Una struttura che vuole integrarsi nel contesto della località, poiché esprime, si legge in una nota, oltre ai più evoluti canoni di funzionalità, sostenibilità, innovazione, anche il valore della bellezza. La fondazione ha già dimostrato la sua concretezza ed efficienza a Sarnano, Mucce e Camerino, sempre con il fil rouge della qualità e della solidarietà mercerara di questi tempi. Nella mattinata di ieri, i reparti speciali dei carabinieri NAS di Ancona e Nile di Macerata hanno effettuato un controllo congiunto presso una pasticceria di Corridonia, accertando violazioni di carattere igienico, sanitario ed in materia di impiego e sicurezza dei lavoratori. Nel corso dell'attività, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro accertavano la presenza di due lavoratori italiani occupati in nero, ovvero assunti in assenza della prescritta comunicazione al centro per l'impiego. Per tale motivo, il titolare veniva sanzionato amministrativamente con una multa di 32 mila euro. Il NIL, inoltre, verificava la sussistenza di numerose violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro e per questo motivo venivano emesse sanzioni per altri 3 mila euro. Il Made in Marche dell'enogastronomia è molto richiesto in Europa. Ne abbiamo parlato con Pier Giorgio Coccia, CEO del gruppo Ai Sei Angoli di Bruxelles. Sentiamo. Il Made in Marche in ambito enogastronomico è da tempo un'eccellenza e ha un grande appile in Europa. Numerose le richieste di specialità culinarie e dei vini della nostra regione. Ne abbiamo parlato con Pier Giorgio Coccia, CEO del gruppo Ai Sei Angoli di Bruxelles. A Bruxelles abbiamo una buona base anche perché è presente anche in larga scala la Col di Retti e quindi ci sono dei numeri piuttosto importanti. Sicuramente dobbiamo fare molto di più. Il Covid ha rallentato un pochino le operazioni di export. Questo vale un pochino per tutta Italia. Anche per le Marche dovremmo cercare di esportare un po' di più. Dove si basa principalmente l'esportazione di Marchigeno all'estero? Sicuramente la parte enologica, quindi tutti i nostri vini stanno facendo dei buoni salti in avanti negli ultimi anni, sia come considerazione, quindi come quantità, che come considerazione, quindi come prezzo sul mercato. Il prezzo medio sul mercato si sta alzando e quindi questo dà più valore al prodotto. E poi sicuramente tutte le nostre carni, tutti i nostri formaggi, tutti i nostri prodotti tipici sono ancora molto molto importanti. Purtroppo potremmo parlare del pesce ma si sta cercando di fare qualcosa, qualche progetto che abbiamo visto anche fatto la regione Marche. Il pesce incontra giustamente un discorso di restrizioni circa la sua conservazione, quindi la sua trasportabilità. Si va verso un trend positivo comunque delle esportazioni marchigiane all'estero? Sicuramente sì, anche perché partiamo da numeri più piccoli rispetto ad altre regioni storicamente, quindi abbiamo dei margini di crescita molto più elevati. Marco Moretti in lizza per il titolo di Mister Italia 2024. Moretti, 34 anni di macerata, alto 1,87 m, operatore di sala gioco con lobby per la palestra, per la letteratura ed il cinema, è infatti tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di Miss Italia. Il ragazzo marchigiano sarà impegnato mercoledì 28 agosto a Giulianova, dove in Piazza del Mare a partire dalle ore 21 e 30 è in programma la prefinale nazionale, cui partecipano una novantina di ragazzi selezionati in tutta la penisola, dai responsabili casting Simona Barchetti e Antonio Lambiase. E andiamo al prossimo servizio. Continua a far parlare di sé la gita in barca dei nove dipendenti AST di Ascoli. Sentiamo le ultime da Benedetto Marinangeli. La procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha acceso i riflettori sul caso Vela Gate. La gita in barca a vela pagata a nove dipendenti ospedalieri dall'azienda sanitaria Picena. Ieri mattina gli agenti della sezione di pulizia giudiziaria della procura si sono recati negli uffici amministrativi della direzione dell'azienda sanitaria all'ospedale Mazzoni ed hanno acquisito una serie di documenti riguardanti il corso di formazione finanziato dall'AST, compresi i rimborsi effettuati per la gita in barca a vela. L'obiettivo che si era imposto all'AST era quello di fare squadra fra i dipendenti e proprio con questo fine il 2 agosto è stata liquidata la gita con la determina numero 26 dal titolo Attività di aggiornamento e formazione fuori sede. Determina che contiene varie voci tra aggiornamenti e congressi nazionali che ha coinvolto 86 dipendenti per una spesa complessiva di 43.833 euro. Ma la cifra che è balzata agli occhi per la sua singolarità è stata quella di 4.413 euro per la gita in barca a vela svoltasi il 17 e 18 maggio scorsi nelle acque vicino Pisa che ha visto coinvolti 9 dipendenti dell'AST. Cifra che ha compreso 3.200 euro per la quota di iscrizione pagata dall'azienda, 601 euro per il vitto e 612 euro per il permortamento. Per il corso finalizzato si legge a migliorare la coesione tra i membri dell'organizzazione in barca a vela con esperienze pratiche di team building. Due giorni, il 17 e 18 maggio, a bordo di un cabinato a vela per portare avanti un lavoro di squadra tra divisioni dei compiti che stando alle tesi del coordinatore avrebbe avuto effetti benefici sul lavoro. Infatti, stando al direttore del settore tecnico, il corso, come si legge nelle termine stessa, era teso a migliorare la coesione tra i membri dell'organizzazione in barca a vela con esperienze di team building, insomma fare spogliatorio, fare gruppo per lavorare meglio all'interno di un'azienda. La procura di Ascoli Piceno ora indaga sull'opportunità di quella spesa anche se al momento non ci sarebbero indagati e la vicenda a vela gate finirà anche a Montecitorio. L'onorevole Augusto Curti del Partito Democratico, infatti, ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro della salute Schillaci. Abbiamo consegnato tutti gli atti alla Polizia Giudiziaria in base a una richiesta specifica della procura, ha detto la dottoressa Nicoletta Natalini, direttore generale della ST5 Ascoli Piceno, e rimaniamo tranquilli perché dal punto di vista amministrativo è tutto in regola. Il corso di formazione team building era legittimo, anche se, a mio avviso, la modalità è inopportuna. In sintesi, il contenuto corretto, la modalità è certamente disponibile. Non condivido, ha concluso Natalini, e non ho autorizzato la scelta inserita nel corso di formazione. Per questo motivo ho chiesto ai dirigenti e ai direttori scelte di maggior sobrietà, mantenendo però sempre alta l'attenzione sugli aspetti della formazione e della competenza, imprescindibili per una sanità di qualità. E partiranno entro fine mese i lavori di riqualificazione dell'Arena Tapioca a Falconara per il recupero del Parco Unicef, finanziato dalla Fondazione Cari Verona e portato avanti dal Comune con Lega Ambiente Marche ed altre associazioni, oltre agli istituti comprensivi Centro e Ferraris. Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta per un investimento di 86 mila euro, permetterà di recuperare un luogo storico tra i più amati dai falconaresi e restituirlo alla disponibilità della cittadinanza. La riqualificazione potrà rivalutare uno spazio da sempre destinato ad eventi all'aria aperta. I lavori prevedono anche la riqualificazione del verde che comprende la messa a dimora di nuove essenze arbore ed arbusti. Ed Edoardo Bennato fa il pieno a Re Canati nel primo appuntamento di Lunaria, concerto da sold out per la città leopardiana. Vediamo. Il canovaccio delle favole mi dà la possibilità di parlare dei paradossi di noi umani senza essere troppo retorico, didascalico, paternalista e soprattutto moralista. Quindi nelle favole, guarda caso, anche i personaggi negativi diventano divertenti e quindi evito di essere troppo così... Insomma cerco di essere divertente, fare in modo che quello che dico magari piaccia ai professori di lettere e filosofia, ma soprattutto ai ragazzini di 12 anni. Pure quest'anno siamo riusciti a fare questo bellissimo evento aspettato dalla città, grazie a musicoltura che abbiamo intrapreso questo rapporto che già anni abbiamo consolidato. Abbiamo trovato un personaggio artistico sicuramente all'altezza della situazione. Allora, parafrasando il titolo di un famoso brano di Lurid, Perfect Day, direi che stasera è stata una notte perfetta, la perfect night, una piazza Leopardi stracolma, un concerto stratosferico di quelli che ti riconciliano appunto con i live in un periodo in cui i live spesso purtroppo sono anche delle passarelle di personaggi la cui notorietà è acquisita magari sui social o in televisione, ma poi una volta sul palco mancano del bagaglio artistico, dello slancio emotivo, della potenza di immaginazione di artisti come Edoardo, che ha appena finito il concerto, questo è il suo camerino. E siamo anche riusciti, questa serata con la piazza Stracolma, credo l'unico caso italiano in cui il sindaco delle città, il sindaco Pepe è rimasto in piedi perché ha ceduto il posto ad un fan di Edoardo Bernardo. Quindi buona la prima, la prossima data di lunaria è il 6 di settembre, sempre a Recanati, con Antonella Eugelo. Ed ora siamo arrivati in fondo, dunque la sigla dello sport. Ci avviciniamo all'esordio in campionato per l'Ascoli domani, venerdì, il club bianconero sarà di scena a Ferrara alle 20 per la prima giornata di campionato del torneo di Serie C. Mister Carrera conta di iniziare nel migliore dei modi la stagione. Mentre la VL si allena in vista dell'inizio della nuova annata, sentiamo coach Sacripanti al microfono di Camilla Cataldo. Coach Sacripanti, tanta atletica con i preparatori e anche un po' di pallacanestro. State rispettando i programmi? Sì, stiamo rispettando i programmi. Adesso c'è un grande carico fatto da Roberto Venerandi, preparatore giustamente, e abbiamo fatto della pallacanestro senza contatto per evitare possibili infortuni. Adesso da oggi cominceremo a mettere un pochino più di pallacanestro, anche se le sedute mattiniere sono molto intense. Quindi non possiamo dilungarci più di tanto. La prima settimana un occhio di riguardo un po' più alla preparazione, poi aumenteremo sempre di più la pallacanestro in campo. Siete al completo da subito, questo facilita il lavoro in campo e anche fuori? Sì, è stato positivo il fatto che è riuscito Camilla Amada ad arrivare in tempo dopo il campionato canadese. Ci sono tante tecniche e tattiche di come far giocare la squadra, faremo un po' di prove, un po' di vedere cosa è meglio, cosa la squadra riesce ad assorbire, quindi questo facilita un po' il tutto. Come hai trovato la location di Carpegna? Molto bella, si sta molto freschi, la palestra è un gioiello tutta per noi, dove possiamo fare sia il lavoro di pesistica che appunto a pallacanestro, ci sono, sembra fatta apposta questa discesa per Venerandi dove si scatena terribilmente, ieri le ha fatti morire, ha fatto le ripetute in salita e poi è molto bello, ecco perché poi tutte le colline qui sono veramente un gioiello. Si avvicina alla prima amichevole il 28 con Fidenza. Ma sì, onestamente non ci pensiamo a questo perché dobbiamo mettere ancora della pallacanestro vera. La cosa che stiamo provando, che sto provando, che ce l'ho in testa da un po', è di portare spalle a canestro tanto gli esterni, avendo poi dei lunghi molto tiratori, un po' invertire questa tendenza per far chiudere un po' l'aria, poi per farla aprire. Ieri e l'altro ieri abbiamo fatto dei buoni lavori, ci sono state delle buone risposte, però adesso si comincerà a giocare un po' su seve, vediamo, fai far tutto contro zero, viene come sul libro, poi dopo bisogna metterlo in pratica. Oggettivamente non credo che in Italia ci sia mai stato fino adesso tra la 1 e la 2 un campionato di 38 partite con 8 turni infrasettimanali, quindi l'aspetto mentale di chi è più duro mentalmente, chi è più duro proprio che rimane lì con forza nel fare tutto con grande dedizione, credo che sarà una cosa molto importante, un passo decisivo per poter vincere o perdere. L'Ancona, targata Agnello, ha presentato un ricorso al Tribunale federale nazionale contro l'ammissione della SSC Ancona al campionato di Serie D stagione 24-25, è chiesto la sospensione sia della Coppa Italia che del campionato di Serie D. Il ricorso verrà discusso il 29 agosto. La LND ha deciso di far disputare comunque la sfida di Coppa tra la Recanatese e l'Ancona in programma sabato sera alle 20.30. L'Ion Giovannini è sul mercato in pole position. Nelle ultime ore si è piazzato il Trudica. Il fortissimo esterno d'attacco a Scolano sarebbe nelle mire del club allenato da Mr. Buratti, ma non solo il Trudica ha chiesto informazioni su lui. Infatti diversi i team di eccellenza che hanno sondato il terreno e vorrebbero provare l'affondo. Giovannini, esordio in Serie B con l'Ascoli e poi una lunga carriera tra i dilettanti nelle marche, che ha fatto le fortune di Atletico Ascoli e grande protagonista nella Iesina. Chiudiamo con un'ultima notizia di mercato. È un Fabriano Cerreto ancora alla ricerca del gol, quello che si appresta ad affrontare da neopromossa e con una squadra semirivoluzionata il prossimo campionato di eccellenza. La notizia è l'arrivo in prova del croato Jakov Katusa, classe 2000 che può svariare su tutto il fronte d'attacco. Nella scorsa stagione ha militato al NK Aluminni nella massima Lega Slovena, salvo poi essere ceduto a metà stagione in seconda divisione al Beltin C, mettendo a referto 5 gol e 3 assist in 30 partite. E vi ricordo di rimanere aggiornati con il Mondo TVRS, dando un'occhiata ai nostri siti utvrs.it, dove ci sono notizie di cronaca, sport e attualità da tutta la nostra regione, con un aggiornamento ovviamente costante 7 giorni su 7, e chiaramente anche il sito tvrs.it, dove sono presenti tutti i nostri telegiornali e le varie trasmissioni che la nostra emittente costantemente produce. Ricordo che l'appuntamento invece per l'informazione torna domani a partire dalle 12.50, a me non resta che augurarvi una cordiale buona serata, arrivederci. Asset Farmacie Comunali Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo, anticiclone africano in rinforzo per la giornata di venerdì sul nostro territorio. diamo subito uno sguardo alla grafica della nuvolosità che sarà praticamente assente sull'Italia, se non sui settori montuosi, quando appunto nel pomeriggio avremo dei temporali di calore proprio da segnalare su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Infatti la giornata di venerdì sarà prevalentemente soleggiata, eccetto nella seconda parte del giorno, come dicevo, specie nel pomeriggio, quando avremo la possibilità di qualche rovescio su Alpi, Prealpi e Appennino, temperature massime che tenderanno ad aumentare con valori tra i 30 e i 34 gradi al centro nord, punte localmente nelle zone interne del sud fino ai 35-37 gradi. Per tutti i dettagli c'è il sito Elab di Trebi Meteo.